Sapori, divertimento, partecipazione, tradizione sono gli ingredienti della sagra del fungo di Trontano che, toccate le 37 edizioni, è andata in archivio donando al pubblico, nel pomeriggio di domenica, gli ultimi sprezzi di allegria. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.